carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a san giuseppe il più santo dei santi come sapete stiamo seguendo il pio e anche erudito libretto del padre anche erpegna che ci guida un po dentro il mistero di questo straordinario santo sposo di maria padre padre putativo di gesù e di cui abbiamo già sondato diversi aspetti penso che la puntata precedente per chi l'ha seguita sia stata anche abbastanza vincente inedita sicuramente entusiasmante quindi la scoperta che c'è una pia idea teologica una pia tradizione fondata evidentemente sulla sagra scrittura c'è su quel passaggio del vangelo di san matteo che ci comunica che la morte di gesù si aprirono i sepolcri e uscirono risuscitati dei morti in cui diversi diciamo così autori spirituali durante il corso della bimillenaria tradizione della chiesa hanno voluto vedere molti san giuseppe e qualcun altro anche i parenti stretti della madonna san giovanni battista insomma non sappiamo evidentemente se queste cose siano successe davvero la chiesa non si è pronunciata al riguardo ho già detto che nell'apparizione di itapiranga san giuseppe avrebbe confermato la dottrina della sua assunzione in cielo così come sempre nelle stesse apparizioni per chi le conosce e per chi ci crede le ritiene attendibili san giuseppe invita anche a parte a celebrare con particolare devozione quei primi mercoledì del mese a completamento della devozione dei primi nove venerdì e dei primi cinque sabati e oggi trattiamo un altro aspetto che è il penultimo capitolo di questo piccolo ecco devoto ma bel libretto a mio avviso che san giuseppe moribondi in particolare vedremo come san giuseppe è venerato dalla chiesa come il padrono della buona morte semplicemente per un motivo molto laparissiano unico fra tutti gli esseri umani ha avuto la grazia di morire tra le braccia di gesù e maria mentre erano sulla terra tradizione questa qui davvero antichissima e praticamente certa vuole che san giuseppe sia morto prima dell'inizio della vita pubblica di gesù e quindi gli ha toccata la sorte di morire tra queste braccia insomma indifferenti vedremo che l'autore qui per parlare di questo episodio farà riferimento anche ad una celebre rivelazione privata attinente alla vita della madonna che è la mistica città di dio della venerabile maria di gesù da greda dove ci sono dei dettagli numerosi dettagli e particolari della vita della madonna io ovviamente invito caldamente ecco siamo nel mese di maggio insomma se uno volesse fare una lettura spirituale mariana e ci avesse una mezza idea ha certamente certo la mistica di dio un'opera abbastanza impegnativa sono due volumi di un certo spessore il testo è comunque disponibile anche in versione digitale per chi li preferisce l'ho visto sia su amazon che sullo store di apple quindi non c'è nessun problema è una lettura sommamente edificante la mistica città di dio di di maria da greda personalmente la ritengo un un cult diciamo così imprescindibile per le anime che sono devote alla madonna che vogliono imparare essere devote alla madonna quindi mi si perdoni anche questa parentesi che magari per chi sentisse in un altro momento questa catechesi potrebbe sembrare non non consona però la diretta ecco va in onda appunto il 5 maggio no il 4 maggio del 2022 e quindi all'inizio del mese di maggio siccome ogni tanto qualcuno mi sta mi sta mi sta mi sta mi chiedendo dice ma vorrei santificare questo mese che facciamo sono tante cose da fare ecco una cosa assai opportuna una buona lettura spirituale mariana quindi sicuramente la mistica città di dio rientra tra le ottime letture spirituali mariani bene adesso andiamo a leggere un pochino il testo per di dio preziosa gli occhi del signore e la morte dei suoi fedeli salmo 116,15 ancora nel libro della vocalisse beati d'ora in poi i morti che muoiono nel signore si dice lo spirito riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono ora la morte è una delle realtà certamente più tragiche oltre che più certe dell'esistenza umana tutti tardi o presto dobbiamo morire ma che differenza tra il morire disperati e il morire in pace con dio qui mi vorrei subito fermare perché un punto proprio fondamentalissimo che detta certamente una parte consistente della cifra della nostra vita cristiana è il nostro rapporto con la morte e col pensiero della morte qual è la nostra reazione dinanzi al tema morte la nostra grande maggioranza degli esseri umani reagisce nella maniera più stupida che possa esserci cioè non ci penso esorcizzare il problema come si fa col diavolo che si fa con i diavoli si scacciano il problema morte viene esorcizzato seguendo in questa follia per quanto mi riguarda questo è la stupidaggine grossa quanto una casa che disse il filosofo greco chiamiamolo filosofo anche se secondo me per la corrente filosofica che impersonava non è tanto degno del titolo di filosofo che è insomma una disciplina assai nobile cioè picuro che diceva una stupidaggine che si avvera ecco per chi vedrà nel video c'è stato qualche gattino che mi scorazza dietro questa è una cosa che avvera per i gattini o per i cagnolini o per i cavallucci ma non per gli uomini piccolo diceva la morte che problema è quando io ci sono la morte non c'è quando c'è la morte non ci sono io insomma ripeto questo è vero per i gattini perché come tutti quanti sappiamo gli animali anche se vedono un animale morto vicino a loro non sono in grado di fare un discorso ah dunque questo è morto è un gatto come me ah quindi morirò anch'io no ma noi si però noi si e noi non possiamo non chiederci che cos'è la morte perché c'è la morte finisce tutto con la morte non possiamo non credere non chiedercelo eh non solo non possono esistere credenti in Cristo non possono che hanno paura della morte non possono se uno se uno ha paura della morte non è credente in Cristo perché chi ha paura della morte non crede nella vita eterna non crede nell'immortalità dell'anima non crede nella resurrezione della carne non crede in tantissime cose per un cristiano degno di questo nome la morte certamente è un travaglio perché la morte insomma si passa per una sofferenza ma è il travaglio che pone fine a ogni sofferenza ci porta a conseguire il fine della nostra esistenza noi siamo stati creati per il cielo non per la terra perché un cristiano degno di questo nome quando pensa alla morte dice fosse tra due minuti io sarei la persona più felice del mondo se sto in grazia di Dio ho fatto abbastanza penitenza dei miei peccati non ho scandali non riparati ho riparato quello che potevo riparare ho cercato di dare il meglio di me dette tutte queste cose ma fosse tra due minuti e viva io l'ho ridetto anche oggi nell'omedia delle messe feriali in questi anni che tutti quanti sappiamo che cosa succede dal da primi di marzo del 2020 a oggi io dico soltanto una cosa se ci fossero stati in Europa almeno credenti degni di questo nome la maggioranza di essi ma non sarebbe successo quasi niente di quello che avremmo visto non nel senso che non c'era niente in giro ma non ci sarebbero state certamente reazioni come quelle che si sono viste io mi dispiace rivendico il diritto alla libertà di pensiero non ci credo non ci credo perché l'essere terrorizzati dalla prospettiva della morte fosse anche una morte dolorosa anzi se la morte fosse dolorosa per un figlio di Dio non dico che c'è una grande santità per auspicarla però una morte dolorosa in cui io prego che per grazia di Dio il Signore mi conceda di offrire le sofferenze quindi di farci devo essere umile non devo chiederle certe cose perché poi non sappiamo se siamo in grado di sostenerle ma se dovesse capitare chiederò al Signore la grazia che mi aiuti mi espio le ultime cose che ci stanno ad espiare prima di morire e non passo per niente per il purgatorio c'è molta gente che pensa che ah beato quello che è morto nel sonno e manco se ne è accorto chi ascolta questa catechesi io lo pregherei in ginocchio di pensarci a queste cose tu pensi per esempio ah beato che muore dormendo che così non se ne è manco accorto è una grazia secondo te questo qui o è una disgrazia quando ci credevano dico soltanto che i cristiani pregavano in questo modo salvaci dalla morte improvvisa essendo l'appuntamento degli appuntamenti perché l'appuntamento con con lui ma ti pare che uno all'appuntamento degli appuntamenti ci arriva impreparato se io c'è un appuntamento importante eh ma io mi preparo e me faccio una bella doccia mi metto il vestito più bello mi concio bene sto in trepidazione non vedo l'ora che arriva che ne so non lo so ma l'appuntamento non si va così pum all'improvviso di per sé la morte è una delle realtà più tragiche dell'esistenza umana di per sé ma noi non siamo pagani peccatori noi abbiamo tutta la spiegazione noi sappiamo perché c'è la morte nel mondo sappiamo che cosa è la morte e sappiamo chi deve temere la morte la morte la deve temere chi vive lontano da Dio volontariamente chi è vissuto nel peccato senza dare segni di ventimenti chi ha dato scandali chi ha fatto ingiustizie chi ha fatto soffrire il prossimo chi ha fatto i soprusi nei confronti del prossimo d'accordo questi devono temere la morte ma non un figlio di Dio che ha cercato di vivere per come vuò nella sua amicizia che cosa c'è da temere? preziosa agli occhi del Signore e la morte dei suoi fedeli beati i morti che muoiono nel Signore si regge nell'Avocalisse beati perché raggiungiamo la beatitudine non c'è altro sistema per raggiungere la beatitudine qui in questa terra possiamo avere una vita felice? sì felice? sì ma beata no non è la stessa cosa felice e beata la beatitudine è la pienezza inimmaginabile della felicità la felicità invece è una condizione uno stato di già come dire vero appagamento anche qui faccio riferimento al Vangelo di oggi già sta romeria online dove Gesù diceva chi viene da me non avrà più fame chi viene da me non avrà più sete chi viene da me c'ha la vita eterna la vita eterna non comincia dopo ce l'ha adesso la vita eterna adesso non c'ha più fame adesso non c'ha più sete rimando per andare a approfondire quello che se uno vuole quello che significava no? non è un problema che si muore il problema è come si muore e andiamo a vedere come ha morto San Giuseppe che differenza tra il morire disperati e il morire in pace con Dio sapeste quante novi sapete che tra le cose un parroco tra le cose che gli capitano abbastanza di frequente di fare a seconda della densità della parrocchia in cui si trova è la celebrazione delle seguie con tutto ciò che lo precede con tutto ciò che segue la morte di una persona ci sono certe certe vite certe persone o persone che arrivano alla morte perché dopo la morte è veramente già il re der azione tu arrivi la morte con una vita brutta una vita vissuta magari malamente molto lontano da Dio o grigia la vita è finita ormai non si può riavvolgere il nastro della nostra esistenza non si può dopo morti noi possiamo ripercorrere nella divina volontà nello spazio dell'eternità ogni istante buono della nostra esistenza questo insomma non è tanto difficile capirlo ma noi non possiamo riavvolgere il nastro della nostra esistenza quello che abbiamo fatto abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto non abbiamo fatto è molto differente come si vive e come si muore San Giuseppe ebbe la fortuna di morire tra le braccia di Gesù e di Maria la sua morte fu un passaggio tranquillo all'eternità tranquillissimo la morte del giusto questo è entrata anche diciamo così nella almeno un tempo nella cultura popolare cioè non ci sono quelle agonie orride dolorosissime interminabili ci possono anche essere delle grandissime sofferenze prima della morte ma poi nel momento della morte c'è uno spirale flacido oggi è il 4 maggio l'altro è stato il 29esimo anniversario della morte del mio caro amico che tutti chi mi conosce e chi mi segue sa sta alla fonte della presa di coscienza della mia vocazione al sacerdozio ma Francesco ha tribolato la fine del mondo insomma in un anno ma il giorno della morte lì veramente se ne è mai accorto si è mangiato il suo bel gelatino dentro la la cupetta sterilizzata posta la pianto dal midollo si è girato dall'altra parte ma mi faccio un sonno se ne è mai accorto eh ma bisogna vedere quello che c'era prima però quello che c'è stato prima però la morte dei giusti generalmente è placida adesso lasciamo perdere il nostro Signore Gesù Cristo che ha dovuto redimere il mondo quindi ha avuto una morte orrenda anche se nel cuore come appare proprio dal modo con cui muore il mio padre era comunque sereno anche i martiri molti martiri hanno avuto delle morti insomma veramente allucinanti di cruente ma è più che lecito pensare che nel cuore anche per la forza immane proveniente da Dio fossero sereni quindi non tutte le morti sono placidi e tranquille perché poi bisogna vedere i decreti di Dio ma sicuramente tutte le morte dei giusti sono serene ora vediamo ciò che ci racconta al riguardo anzitutto la beata Anna Caterina Emmerich cita anche questa autrice sappiamo che questa grandissima santa che ha scritto tante cose belle sappiamo che purtroppo a quanto pare parte delle sue fonti non sono attendibili perché sono state purtroppo alterate dal suo scrivano dal suo segretario dal Brentano non si capisce poi se non aveva capito bene o se era potuto metterci di suo non entriamo insomma in queste questioni no? Comunque la Emmerich scrive quando Giuseppe morì c'era Maria seduta alla testata del letto e lo teneva tra le braccia mentre Gesù era vicino al suo petto in dirà stanza piena di splendore di angeli Giuseppe con le mani giunte sul petto venne avvolto interi bianchi collocati in una cassa stretta e deposti in una bella caverna sepolcrale che un uomo gli aveva regalato oltre a Gesù e Maria poche persone accompagnarono il feretro che vidi invece tra grandi splendori e angeli ora invece la venerabile Maria di Gesù da Greta racconta e qui stiamo alla mistica città di Dio Gesù gli diede la benedizione e gli disse Padre mio riposa in pace nella grazia di mio Padre celeste e mia ai miei profeti e santi che ti aspettano nel limbo porta le leite notizie dell'arrivo imminente della loro retenzione tra le braccia di Gesù spirò il santo e felicissimo Giuseppe e Gesù gli chiuse gli occhi e nello stesso tempo una moltitudine di angeli che assistevano con loro re e la loro regina intonarono dolci cantici di lode con voci celestiali dei merodiosi poi portarono la sua anima al limbo dei padri e dei profeti dove causò nuova gioia quella incalcolabile redenzione ora per coloro che la conoscono qui l'autore non ci fa riferimento anche Maria Valtorta descrive nell'opera sul Vangelo la morte di San Giuseppe a quanto ricordo in termini non molto dissimili da quelli che abbiamo ascoltati sicuro prima dell'inizio della 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 vita pubblica di Gesù e placidamente tra le braccia di Maria di Giuseppe di Maria di Gesù ora il popolo cristiano basandosi sul racconto che Giuseppe è morto tra le braccia di Gesù e di Maria lo ha sempre considerato avvocato e protettore degli agonizzanti il patrono della buona morte tant'è vero che una delle giaculatorie Gesù Giuseppe e Maria assistetemi nell'ultima agonia c'è anche Giuseppe Gesù Giuseppe e Maria aspiri in pace con voi l'anima mia l'altra giaculatoria e così lo ha confermato la chiesa con la sua autorità Papa Benedetto quindicesimo non sedicesimo eh il 25 luglio 1920 scrisse avendo la sede apostolica approvato diversi modi di onorare il santo patriarca si celebrano con tutta la solennità possibile i mercoledì e il mese a lui dedicato marzo in tutte ed in ciascuna delle diocesi a istanza dei vescovi ma principalmente poiché è singolare protettore dei moribondi siccome alla sua morte erano presenti lo stesso Gesù e Maria incoraggino i venerabili fratelli quelle più associazioni che furono fondate per pregare San Giuseppe in favore dei moribondi come quella della buona morte la famosa confraternita della buona morte che ormai è quella del transito di San Giuseppe affinché egli con tutta la sua autorità aiuti gli agonizzanti ora qui cogliamo un particolare si celebrano con tutta la solennità possibile i mercoledì io personalmente ho acquisito una tradizione che cerco di osservare quando chiaramente non ci sono impedimenti liturgici che la messa del mercoledì è sempre la messa votiva di San Giuseppe e il mese di marzo è sempre bene onorarlo con preghiere speciali di San Giuseppe personalmente ritengo che la migliore forse la più indicata è un parere proprio del tutto soggettivo non vincolante è accompagnare il mese di marzo col Sacro Manto anche perché lì si sbancano i cieli con le grazie insomma il Sacro Manto è una preghiera abbastanza impegnativa quindi non è una preghiera da due minuti insomma per recitare il Sacro Manto con calma ci vogliono una decina di minuti almeno ecco se si va non con troppa calma ecco però cioè un devoto di San Giuseppe deve acquisire diciamo proprio come stile il il dare particolare onore al mercoledì ecco chi mi conosce adesso quest'anno c'è venuta insomma questa questa ispirazione chi mi segue però questa è una cosa però per un po' di coraggiosi è una cosa che viene dai tapiranga suggerita dalla dalla Madonna stessa a quanto raccontano di di celebrare con particolare amore il primo mercoledì del mese facendo a San Giuseppe un omaggio insomma non indifferente che è la recita delle mille ave Giuseppe testo che è stato appunto elaborato proprio nella serie di queste apparizioni e che si fonda però proprio sullo scheletro dell'ave Giuseppe scritta a suo tempo da San Luigi Maria Grignon da Monfort insomma che non è l'ultimo arrivato ed è un grande santo mariano che è l'autore dell'ave Giuseppe questo non lo sa quasi nessuno ecco l'ave Giuseppe è stato leggermente rettificato ai tapiranga ma la sostanza è quella del Monfort e sono cose molto molto belle molto molto importanti perché San Giuseppe l'avremmo imparato è dopo la Madonna è quello che di grazie ne sbanca veramente non poche ma anche la protezione che esercita San Giuseppe il padrono della chiesa è il terrore dei demoni quindi mettersi sotto le sue ali e invocarlo l'ave Giuseppe è molto bello quindi uomo giusto e virginale la sapienza è con te San Giuseppe degno padre il provatore di Gesù della Santa Chiesa prega per noi peccatori ottienici da Dio la divina sapienza adesso è l'ora della nostra morte amo ottienici da Dio la divina sapienza senza ripetere per mille volte ottienici da Dio la divina sapienza no? quindi quindi il Papa un pontefice raccomanda ai Vescovi e celebrare con tutta la solennità possibile mercoledì e il mese a lui dedicato in tutte e in ciascuna delle diocesi quindi ne chiese come dire una particolare cura pastorale dai Vescovi Papa Pio undicesimo ecco nelle litanie di San Giuseppe nelle litanie di San Giuseppe che si trovano anche nel Sacromanto furono appunto approvate da Pio undicesimo tra le invocazioni c'è il patrono dei moribondi prega per noi patrone patrone morientium quindi come fangularum columen solatium miserorum spes crotantium patrone morentium terror demonum protector santa ecclesi queste sono le ultime patrone morientium cioè patrono dei moribondi di quelli che stanno per morire e anche nel nuovo catechismo della chiesa cattolica nel numero 1014 viene consigliato ai fedeli chiedere alla madre di dio di intercedere per noi nell'ora della nostra morte e affidarci a San Giuseppe patrone della buona morte se si impara a dire l'ave Giuseppe ai tapiranga per esempio dai tapiranga viene anche il rosario di San Giuseppe che non sono mille ave Giuseppe ma sono 70 ave Giuseppe intervallate dal padre nostro però nell'ave Giuseppe noi così come nell'ave Maria ecco perché è così importante l'ave Maria ogni volta che diciamo l'ave Maria diciamo una donna prega per noi adesso è nell'ora della nostra morte ottiene cittadino di una sapienza adesso è nell'ora della nostra morte quindi la devozione a San Giuseppe è molto raccomandata per vivere una buona e santa è la cosa più importante amici la cosa più importante è che noi viviamo una santa morte perché da lì dipende tutto sapete che Sant'Alfonso Maria dei Riguori scrive a me è successo qualche volta di poter parlare con fedeli prossimi alla morte consapevoli di essere prossimi alla morte e dirgli guarda amico mio amica mia ho avuto anche delle esperienze veramente memorabili sotto questo punto di vista cioè di persone che si sono veramente preparate alla morte hanno fatto la confessione generale ogni giorno è questo il giorno può essere che sia questo il giorno baci al crocifisso in continuazione prima della morte attendendola consapevoli malati terminali o malati di tumore che gli hanno detto vattene a casa non c'è più niente da fare sono morti in questo modo io ho avuto la gioia di cercare di avere qualche funerale immaginate con quale gioia sapendo avendo seguita la situazione quindi come era morta quell'anima una delle rarissime volte tutti i sacramenti chiaramente olio santo viatico preghiera di raccomandazione dei moribboni che più di questi non non ci stavano Sant'Alfonso dice Sant'Alfonso Maria dei Riguori non è l'ultimo arrivato chi accetta la morte quindi consapevole del momento che sia per venire dice signore la ricevo da te la vivo con tutto il cuore la vivo come atto di ubbidienza questo è il prezzo ultimo del peccato originale io lo faccio mio accetto di lasciare questo mondo accetto di farlo nel modo in cui tu vorrai nell'ora in cui tu vorrai con le sofferenze che mi manderai non fa niente quanti anni ho? 10, 15, 20, 30 non fa niente quando sia sia non mi preoccupo di quello che succederà ma io ho i figli io ho il marito io ho la moglie io ho la il nipote il prossimo nipote zero ci pensa a nostro signore a tua moglie a tua marito a tuo figlio fine pensa a morire bene Sant'Alfonso dice chi riesce ad accettare pienamente la morte come un atto volontario e ne offre a Dio un sacrificio lui dice può darsi che si sbagli per carità ma insomma non è proprio l'ultimo arrivato non si passa per il purgatorio ma voi immaginate che bello cioè a morire non passare non è cosa tanto facile non passare per il purgatorio non date retta insomma in giro eh che pare che pure qualche santo sia fatto qualcosa di di purgatorio e non uno solo e non è facile capite cioè chi di noi è così puro da potersi presentare al cospetto di Dio insomma io penso che ci voglia una superbia e una tracotanza un'arroganza non indifferente no cioè Dio è il perfettissimo ma chi di noi si può presentare al cospetto di Dio e pensare che dice vieni subito in paradiso che tu sei già santo cioè a me sembra veramente insomma ovvio l'impossibilità di pensare a una cosa di questo genere però se ti giochi bene l'appuntamento con la morte eeeh paghi tutto tutto pagato e se sei tutto pagato il nostro signore non perché sei stato chissà quale grande santo ma sei tutto pagato ti ammette la sua visione proseguo la lettura del testo vediamo un esempio la venerabile Anna di Sant'Agostino che armaditana scalza era molto devota a San Giuseppe e quando arrivò l'ora della sua agonia vennero a portarlo in cielo Gesù San Giuseppe Santa Teresa di Gesù la grande raccomandatrice della devozione a San Giuseppe la moribonda vedendo la sua cella trasformata in un cielo diede segni di gioia straordinarie ad un certo punto esclamò tre volte i miei genitori disse così riferendosi a San Giuseppe e Santa Teresa cioè suo padre e sua madre una carmelitana di grandi virtù che abitava in un convento diverso mentre stava pregando per l'inferma la vide salire in cielo tra San Giuseppe e Santa Teresa di Gesù seguita da un gran numero di angeli di santi che componevano il corteo trionfale così San Giuseppe onora nell'ora della morte coloro che l'onorano in vita e gli chiedono la grazia di una buona morte poi alle mille ave Giuseppe di ieri sera ci sono stati 35 credo 36 eroi che erano presenti alla benedizione insomma per recitare mille ave Giuseppe ci vogliono 5 ore non 5 minuti quindi io chino il capo insomma perché che Dio li benedica però quante grazie tornano da da una cosa di questo genere io dico queste cose perché noi nella vita dobbiamo fare attenzione cioè è chiaro che non tutti ce la fanno cioè ognuno poi ha i suoi come dire i suoi tempi un gesto ascetico di questo genere non può farlo un principiante diciamo così come si chiamano in teologia ascetica cioè una persona che non ha pregato mai lo mette a pregare per 5 ore non ce la farà mai però dobbiamo anche entrare nell'ottica cioè la vita di un cristiano è un'esistenza escatologica noi stiamo proiettati verso il cielo ogni cosa che noi facciamo sulla terra ci torna qui e dopo cioè chi si chi ci è capitato il capitato di Giuseppe chi ha fatto questa cosa ma riceve un autotreno di grazie subito ma può starne certo e se le ritrova dopo la morte chi il sabato sera ormai cioè le veglie del sabato sera per me sono state una costata forse da quando ero diacono addirittura iniziarono un po' per come cose mie poi le persone mi dicono ma tu che stai a fare in chiesa la notte dico un po' un po' prego un po' cioè stanno tante stragi del sabato sera dico speriamo che qualcuno se ne salva ma perché non apri la chiesa così iniziano le veglie del sabato sera per te la gente dico se tu il sabato sera anziché andate a divertire come sarebbe anche tu tutto il sacrosanto diritto insomma per carità non si fa niente non è che uno deve andare in forza a fare qualcosa di male no? ma rinunci e te passi due o tre ore in preghiera ditte due o tre rosari cioè non è niente allora questo per dire che la nostra vita spirituale si plasma si forma qui la nostra sorte eterna ce la scriviamo qui e l'opera della santificazione e anche l'opera della glorificazione quindi della beatitudine non è cosa che si fa in due minuti con una sola operazione ok finito no sono operazioni che richiedono costanza perseveranza atti atti più uno fa e più uno raccoglie Gesù lo dice a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza ma a chi non ha sarà tolto anche quello che credeva avere ultima considerazione e chiudiamo anche noi San Vincenzo Ferrer altro grande fenomeno 1350 1419 mentre predicava un giorno l'omedia della festa di Natale raccontò quanto segue un mercante di Valencia Spagna invitava a casa sua tutti gli anni nel giorno di Natale un povero anziano ed una donna col suo bambino piccolo poiché gli raffiguravano la Vergine col bambino Gesù e Giuseppe qui vedete che c'è se posso permettermi ne abbiamo credo già parlato in questo ciclo di Catechesi la tradizione per certi aspetti graziosa e ben motivata ma falsa ecco di presentare San Giuseppe come il nonno di fatto di di Maria no? quindi un uomo anziano con una donna e col suo bambino piccolo però vedete come poi il Signore guarda il cuore no? abbiamo già detto che una cosa di questo genere non è vera San Giuseppe non era il nonno della Madonna era un uomo nel piano delle sue facoltà era probabilmente intorno ai 30 anni quando si è sposato con la Madonna che aveva intorno ai 13-14 anni come si usava allora quindi certamente era molto più maturo ma non era il nonno era 30 anni un giovanotto insomma nel piano delle cioè delle delle sue della sua vitalità giovanile più grande sì ma non il nonno non un vecchio bacucco insomma no? quindi dei 60-70 anni ecco o anche di più però vedete che succede questo sant'uomo dice che questo mercante che per devozione invitava a Natale questo povero anziano come una donna col suo bambino piccolo perché gli facevano pensare alla Vergine col bambino Giuseppe che succede? alla sua morte gli apparirono la Vergine col bambino a San Giuseppe dicendogli per averci ricevuto nella tua casa noi ti riceveremo nella nostra questo particolare ci faccia comprendere una cosa no? quando noi per esempio sulla base di una credenza di per sé lecita ma magari anche sbagliata non del tutto corretta però offriamo un gesto d'amore bello al Signore ma sai che gliene importa al Signore che quella cosa non è oggettivamente corrispondente al reale? il Signore guarda l'amore guarda il cuore con cui tu gli hai offerto quella cosa questo vale anche lo dico a edificazione a consolazione a volte a noi può succedere che nella vita anche perché come dice la Sagra Scrittura chi di noi può essere certo di quali siano i voleri dell'Altissimo? ecco perché Gesù ha detto non giudicare mai nessuno ci può essere una persona che fa una cosa oggettivamente sbagliata magari pensando che sta facendo una cosa giusta magari sta pensando di fare una cosa gradita a Dio siamo sicuri che il nostro Signore lo manda all'inferno dato che noi abbiamo sempre il giudizio facile ecco perché non dobbiamo mai mai giudicare no? perché se quella persona in buona fede tutte quante cose che solo Dio può valutare con perfezione in buona fede senza colpa e è perfettamente convinta certamente non trattandosi di una cosa intrinsecamente gattiva perché sennò non vale però immaginarsi che che San Giuseppe fosse anziano e che quindi non fosse in condizione di minare l'integrità della Madonna è un pensiero devoto no? anche se non corretto e non conforme al vero il nostro Signore lo prende e non soltanto che lo accoglie ma addirittura gli manda la grazia che alla morte ci sono apparsi la Vergine San Giuseppe per averci ricevuto nella tua casa ti riceveremo la nostra magari nel momento dell'apparizione questo buon uomo allora ha detto questi mi sono apparsi ma non è proprio come l'avevo immaginato insomma no? perché San Giuseppe non è che è così più grande e così anzianotto con me ma non fa niente ecco che significa quel passaggio bellissimo della Sagra di Scrittura che il Signore guarda il cuore fermo restando ripeto perché questi argomenti sono sempre forieri di possibili fraintendimenti la cosa deve comunque essere non intrinsece malum non una cosa in sé cattiva perché la cosa in sé cattiva per quanto amore ci possa mettere non può essere resa buona ma una cosa di per sé non cattiva tutto dipende dalla coscienza e dall'amore con cui viene fatta auguro una santa morte a tutti come quando Dio vorrà l'esercizio della buona morte e qui mi permetto ancora di citare Sant'Alfonso Maria degli Cuori a conclusione di questa cosa che ha scritto un bellissimo libretto che si chiama l'apparecchio della buona morte è quanto mai edificante così come la meditazione un tempo sempre raccomandato dai maestri di spirito la meditazione sulla propria morte è mai fatta si trova credo anche nella filotea di San Francesco di Salle nelle meditazioni che lui fa preparatorie per chi sceglie di vivere praticando la vera devozione cioè chi fa nella propria esistenza la risoluzione per la santità che è già una cosa molto importante tra le varie meditazioni c'è quella sull'inferno sul purgatorio e anche sulla morte immaginati se ti chiamasse adesso nostro Signore non fare gesti apotropaici che tanto quelli non servono proprio a niente se non a farti fare il peccato di superstizione e di riverenza e se ti chiamasse stanotte nostro Signore chi ha seguito la diretta è tu tu che gli racconti sei pronto? ma oppure il pensiero non ti alzi domani mattina che pensi? no 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 mercarità o pensi magari o pensi almeno vabbè se questa proprio non sarei entusiasta ma sia la volontà di Dio fiat vabbè già è qualcosa insomma no? facciamolo la meditazione sulla buona morte e nel frattempo tra i vari avvocati quindi l'angelo custode in primis la madonna poi l'angelo custode sappiamo insomma che uno dei più grandi principi del foro ecco per l'avvocatura della buona morte è certamente il grande San Giuseppe bene amici al prossimo mese se Dio vuole per l'ultima catechesi su questo testo e poi vedremo se come procedere come Dio vuole cercando sempre di capire i suoi voleri e i suoi disegni a chi ha seguito la diretta una santa notte a tutti e a tutti la mia benedizione a presto